Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla Statale 1 Aurelia rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori a Livorno, zona industriale. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tramvia, per interventi di protezione sui binari, stanotte in orario 21.05 restringimento di carreggiata sul ponte Mariti da Viale Redi a Via Bonsignori e senso unico alternato con Movieri. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!